Marco, non andare lì che ti fai male! Quante volte avrete sentito la mamma imprecare a un figlio questa frase? Siamo al volante della nostra vettura, stiamo tornando a casa, belli tranquilli, stanchi anche da una giornata di lavoro e... Puff! Si accende la spia gialla del motore. Oh my God! Cos'è successo? Ci fermiamo, tiriamo la leva per aprire il cofano e andiamo a vedere che cosa è successo al motore. Cominciamo a controllare, guardiamo il livello dell'olio, il livello del liquido refrigerante, la batteria, tocchiamo qualche cavetto, magari potrebbe essere quella. Tutto ci sembra a posto, tutto normale. Affrante con un musone che ci arriva per terra, rientriamo nella macchina, giriamo la chiave per metterla in moto, spia gialla, spenta. Torniamo a casa, belli tranquilli, problema risolto. Il giorno dopo torniamo al lavoro, non succede niente. Il terzo giorno ci portiamo ancora al lavoro, spia gialla nuovamente accesa. Spegniamo il motore, aspettiamo un attimo, potrebbe essere un inconveniente di un istante, come è successo la prima volta. E infatti così è, riaccendiamo la macchina, spia già le spette e noi siamo nuovamente tranquilli. Questa tiritera va avanti per un mese, la spia che si accende, poi si spegne, la spia che si accende ancora nuovamente. Va a tratti la cosa. Al termine di un mese esatto cominciamo a sentire la macchina che strattona. Sarà il caso di portarla dal meccanico. Una volta giunti dal meccanico lui stesso ci dice, guarda lasciamela giù qui almeno 4 giorni perché sono pieno, sono saturo fino alla testa, non ho tempo in questo momento di controllarti. Ti do una macchina sostitutiva e ti costa 20 euro ogni giorno. Ti ripresenti esattamente dopo 4 giorni dal meccanico e ti dice, ma caro signore, da quanto tempo è che questa spia qui si accendeva e si spegneva? Ma sinceramente me l'ha fatta un mese fa, sono sceso dalla macchina, ho dato la controllatina, si era spenta, pensavo che tutto fosse andato a posto e quindi ho tirato. Sì caro signore ho capito, ma sa che cosa è successo in questo frangente di tempo? Che è uscito il liquido refrigerante corrosivo e è andato a toccare delle parti che sostanzialmente l'hanno rovinato il motore. E quindi adesso che cosa dovrei fare? Non c'è più nulla da fare perché il danno al motore supera l'intero valore della macchina. Vedi che ero zio Ezio, non hai voluto ascoltare quella vocina che ti strattonava e ti diceva, portala adesso la macchina, si è accesa la spia del motore, non è la spia della lampadina. E tu però ad ascoltare quella vocina hai temporeggiato. Morale della favola, hai buttato 80 euro di noleggio, hai bruciato un motore e devi comprarti una macchina nuova. Sostanzialmente ti sei comportato come quel bambino che non ha ascoltato la mamma e è andato verso la buca rischiando di farsi male. Chi ha tempo non aspetti tempo e il tempo è denaro.